Che bello amici di Radio Bruno è arrivata Alessandra Moroso! Ciao a tutti e grazie! Allora Ale, siamo al tuo primo Sanremo in gara perché comunque hai partecipato negli anni ma tornando indietro, lo rifaresti prima perché veramente ti sentivi a tuo agio sul palco, eh? No! No, ho sempre detto Sanremo canzone giusta viaggiavano insieme questi due pensieri ed è arrivato così Quindi questa canzone giusta è arrivata quando? Raccontaci un po'. È arrivata totalmente per caso, totalmente inaspettato da questo incontro mio di Takagi Ketra insieme a Federica Abate, Jacopo e Torre, ci siamo seduti lì e avevamo voglia di scrivere, di raccontare qualcosa e quindi zero aspettativa un po' su tutto e in realtà quando c'era già la strofe iniziale è un ritornello quindi in realtà come abbiamo continuato a scrivere poi la canzone e venivano fuori dei concetti, dei concetti fatti di vita, di fatti realmente accaduti e quando l'abbiamo ultimata, l'ho provinata in studio, ho detto ok questa è la canzone giusta Quindi la partecipazione al festival e partecipano anche tue care amiche Ti hanno dato dei consigli, Annalisa, Emma? E chi li ha viste? Cioè in realtà noi ci vediamo di sfuggita tra una radio e l'altra l'ingresso all'Ariston, l'uscita magari anche da un van, ci salutiamo però in realtà è veramente un frullatore meraviglioso però ogni volta che ci vediamo è sempre bello, è sempre una grande festa ci sono questi baci volanti grandi, toccate di sedere per portarsi fortuna perché si usa così e basta e c'è questo E quindi fino a qui, cosa ne pensi di questa avventura serremese? Tutto bene mi verrebbe da dire, però io sono davvero contenta e soddisfatta è molto serena, è tutto molto bello quello che sto vivendo me lo sto godendo fino alla fine, ogni secondo è molto intenso tutto, però è bello, è un bellissimo frullatore dai Un frullatore, ancora più salentino, venerdì? Eh sì, così è se vi piace nel senso che io fino ad oggi ho sempre raccontato un po' una parte molto autobiografica perché è così questo testo, però io spero anche che molte persone si possano poi sentire abbracciate da questo l'ho definito sempre un po' un vestito tagliaunica che spero che possa essere indossato non solo da me ma da tutti e da tutte e quindi diciamo poi mi sono voluta spostare perché non sono solo questo sono tanti colori, sono la mia terra, sono il mio dialetto sono l'usule, l'umare, l'uglietto quindi insomma maestro salentino compagnoni salentini, bunda bash, portiamo proprio un omaggio alla terra Un omaggio alla terra per nulla scontato, mi hanno detto proprio ci sarà una grande festa e le vostre grandi canzoni, un medley assolutamente da non perdere Alessandra, dopo Sanremo che succede? Dopo Sanremo che succede? Sicuramente mi chiudo in casa almeno due giorni di seguito senza sentire nessuno Cioè proprio massimo Mia madre Mia madre Oh basta Bello eh Settimana meravigliosa ma Arrivederci Quindi totale riposo e poi si riparte Almeno due giorni, tre giorni per me per poterci capire qualcosa Almeno per poterci capire qualcosa Noi abbiamo capito tante cose Ci è piaciuta tantissimo la tua canzone Ti ringraziamo di essere stata qui con noi Grazie a voi Di Radio Bruno Grazie mille ad Alessandra Amoroso